Modalità online. Se la pandemia ha impedito di radunarsi in presenza, non ha certo fermato l'evento con The Economy of Francesco. Parte da Sisi, la città dove Francesco si spogliò dai suoi averi, l'appuntamento voluto dal Papa. Una chiamata alla quale hanno risposto da tutto il mondo oltre 2000 giovani connessi da 120 paesi. Studenti, dottorandi, ricercatori, imprenditori con meno di 35 anni. Menti fresche e capaci di creare cambiamenti sociali, promotori di un'economia per il bene comune. Inizialmente è previsto a marzo, al via oggi alle 14 con l'intervento del Cardinale Peter Tarkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Sarà possibile seguire in diretta tutti gli appuntamenti tramite il sito ufficiale francescoeconomy.org e ci sarà anche Papa Francesco, con un intervento video programmato sabato pomeriggio alle 5 e mezza per incoraggiare le conclusioni di queste tre giornate, ricche di momenti diversi, segnati in agenda da colori diversi. In viola le videoconferenze, approfondimenti sul lavoro, finanza e impresa. In rosso, a tu per tu con Francesco, da cinque luoghi simbolo come il Santuario della Spogliazione o la Chiesa di San Damiano. In azzurro la maratona con un giro del mondo di progetti ed esperienze. Infine in blu i colloqui diretti fra i giovani e i rappresentanti del mondo imprenditoriale e accademico. E in questo momento di pandemia ci rendiamo conto, come diceva Papa Francesco, che l'economia è un po' malata e forse ha bisogno di chi contribuisca a guarirla. E i giovani forse con la loro creatività e responsabilità possono darci una mano.